L'Avezzano per rialzarsi dai 2K nelle ultime tre uscite, il Matelica per proseguire la rincorsa notaresco e recanatese in vetta alla classifica. Al De Marzi i biancoverdi ritrovano Gianluca Colavitto, artefice della miracolosa salvezza nella scorsa stagione. A caccia del primo successo sulla panchina di Marzicani, Liguori si affida al 4-2-3-1 e rispolverà Franchi dal primo minuto insieme a Diop e Quatranna sulla trequarti a supporto di Gaeta. 4-3-3 per il Matelica con Leonetti per un offensivo assistito da Valenti e Moretti sugli esterni. In avvio è L'Avezzano a farsi preferire. Al terzo azione ben manovrata con Gaeta che fa da bo per Franchi che scarabocchia e spedisce lontano dallo specchio. 60 secondi e rispondono i marchigiani. Discesa di De Luca che appoggia per Leonetti, conclusione debole e presa plastica di Alonzi. Al nono tornano in avanti i biancoverdi ancora con Franchi che raccoglie un traversone dalla sinistra e gira di poco alto sopra la traversa. La pioggia rende pesante il terreno di gioco e i ritmi calano inevitabilmente. Per un altro sussulto si deve attendere fino al 29esimo quando Leonetti raccoglie la torre di Moretti e trova la deviazione provvidenziale della difesa biancoverde. Tre giri di lancetta e prova ad accendersi Gaeta che si accentra e arma il destro tiro centrale. Facile preda di Urbietis. Nel finale di tempo Colavitto perde Valenti per infortunio e getta nella mischia Tomassini con Leonetti a defilarsi sulla sinistra. Non succede più nulla e il primo tempo si chiude tra i fischi del pubblico di casa. In avvio di ripresa l'Avezzano prova a scuotersi dopo appena 43 secondi piazzato di Franchi per la testa di Brunetti anticipo di De Santis che evita il peggio ai suoi. All'undicesimo però i marzicani capitolano. De Santis fa partire un traversone che taglia il cuore dell'aria. Moretti è lesto ad inserirsi ed anticipare Alonzi per l'1-0 secondo gol in campionato per l'ex notaresco. E Matelica avanti. Liguori corre ai ripari inserendo De Costanzo per un deludente Franchi ma l'Avezzano fatica a costruire e a rendersi pericolosi. Sono ancora i marchigiani. Con Bordo che cerca l'euro gol di giornata sta affilata fuori dallo specchio. Il Matelica lascia l'iniziativa all'Avezzano ma i biancoverdi stentano ad arrivare dalle parti di Urbietis. Colavitto fa ricorso alle forze fresche e manda in campo Massetti per croce. L'unico tentativo dei padroni di casa arriva al 38esimo quando Gaeta ha defilato mette in mezzo un buon cross ma nessuno dei suoi accompagna l'azione. Tra i mugugni e i fischi del De Marzi l'Avezzano abbozza un timido forcing che non fa altro che mettere in luce le lacune tecniche e mentali di una squadra ancora senza identità e al primo dei cinque minuti di recupero arriva il raddoppio del Matelica. Il neoentrato Massetti raccoglie la torre di Tomassini collo pieno e conclusione vincente che apre la crisi dell'Avezzano. Biancoverdi ha la terza sconfitta in quattro partite e sempre più giù in classifica. Matelica al terzo successo consecutivo che vale il terzo posto a meno nove da Recanatese e Notaresco in attesa di un mercato di dicembre che rivoluzionerà la rosa in casa Avezzano a montare è la protesta dei tifosi. Abbiamo giocato evitando di perdere però quando si gioca evitando di perdere poi non si ottiene nulla infatti Matelica si è dimostrata cinica e concreta del resto l'Avezzano non tira mai in porta quindi peggior attacco del campionato. Tutto si traduce in quello che farò fra 20 giorni insomma la riapertura del mercato e farò qualcosa che mi ricorda quello che feci sei anni fa in eccellenza. Il secondo campionato di eccellenza ha presi otto giocatori e ne mandai via dieci e quindi farò qualcosa di simile perché questa è una squadra che ha delle buone individualità però nel complesso manca di anima, sostanza, cinismo, cattiveria. quando vedo i giocatori che a fine prima dell'inizio della partita parlano con gli amici che sono stati nella passata stagione eccetera quasi a cercare aiuto a me questi giocatori non interessano. quindi ormai ho imparato a non fare più i nomi però è un monito nei confronti di chi sa e quindi sono stato abituato troppo spesso a digerire bocconi amari quindi sono super sereno perché sono convinto che l'Avezzano Calcio nel girone di ritorno sarà tutta un'altra squadra e sarà soprattutto un'altra musica per il pubblico per lo Stadio De Marsi che è diventata qualcosa che non ci appartiene a volte quindi questa amarezza fa parte proprio del modo in cui è stata costruita la rosa all'inizio della stagione mi auguro ecco di equilibrare bene le forze e soprattutto scegliere i giocatori giusti che già ho contattato onestamente e quindi faccio un calcio mercato insieme a Giacovitti diretto i ragazzi che ho sentito al telefono sono non contenti ma vogliosi di tornare a vestire la maglia bianco verde sanno quello che significa indossare la maglia dell'Avezzano Calcio e quindi sono contentissimo di far rivedere al pubblico bianco verde i giocatori e quindi siccome ci tengo troppo a questa maglia, a questa società, a quello che tutto qui dietro rappresenta voglio che appunto il pubblico del De Marsi torni a vedere una squadra che non lotta per retrocedere e voglio appunto che torni una certa serenità io sono super sereno, mi auguro di fare almeno 3-4 punti da qui alla riapertura del mercato la squadra, chi vuole rimanere è la gente che vorrà fare questi 3-4 punti chi invece non vuole rimanere può venire martedì dal presidente e tornarsene a casa prima del tempo come ho già fatto in passato guarda, ero diciamo così concentrato sulla mia squadra quindi non è che mi fa piacere che il Matelica ha vinto perché qui la mia società ha brutti ricordi mentre io ho bei ricordi mi dispiace per l'Avezzano sportivamente ma io penso che hanno tutti i mezzi per risalire la china e fare un campionato dignitoso so che il presidente Paris è una persona che sta sul pezzo e quindi sicuramente troveranno le loro soluzioni per poter andare avanti